Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque la Juventus primavera debuta in campionato battendo 3 a 0 l'Empoli, partita che era iniziata sotto l'equilibrio più totale con l'Empoli che provava colpo su colpo a dar fastidio ai bianconeri che poi pian piano giocando sono riusciti a prendere il predominio, predominio che ha portato allo splendido gol del 1 a 0 di Leo, bellissimo pallone di Leone a tagliare da una parte all'altra e Leo con un tiro al volo micidiale non ha lasciato spazio al portiere, non ha lasciato scampo al portiere dell'Empoli ma azione meravigliosa, soprattutto pallone di Leone, semplicemente meraviglioso, coi contagiri ha ricordato i palloni che buttava in mezzo Andrea Pirlo, veramente complimenti per questa giocata primo tempo che è terminato così, secondo che si era aperto con un Empoli molto arrembante molto in palla, Juve che però poi quando si è svegliata ha fatto vedere assolutamente di essere di un altro livello, grandissimo il primo gol di Sene con un pallone che è arrivato in mezzo, lui girando da una parte all'altra, un tiro al volo da bellissimo pallone veramente pallone che non ha lasciato scampo al portiere, un pallone meraviglioso nell'angolino l'Empoli assubisce il colpo, poniamoci chiaro, e se ne chiude i conti con un altro bel gol ed è stato il gol del 3-0, partita che potrà terminare molto peggio anche perché l'ingresso di Sekulov è stato devastante e l'Empoli non riusciva più a prendere assolutamente il controllo della palla, veramente sul 3-0 non c'è stata proprio partita e ripeto anzi l'ingresso di Sekulov poteva rendere veramente il passivo nettamente peggiore, però l'Empoli regge, ha avuto anche qualche occasione nel finale per il gol della bandiera, insomma una prima partita per la primavera di Zauli molto molto positiva con molte molte cose positive, qualche cosa ancora negativa, ancora la difesa si deve assestare, oggi non abbiamo preso gol però abbiamo concesso tanto all'Empoli e bisognerà vedere le prossime partite. Mentre io vi saluto, vi ricordo i prossimi appuntamenti col canale, ovviamente il post Fiorentina-Juventus è finita la partita e stasera il post prima giornata del campionato women, gioca ancora le women stasera ma lo farò quello un pochino più tardi perché le partite delle women, mentre giocano le women io purtroppo sarò impegnato lontano da casa quindi le vedrò un po' spezzoni e quindi farò video più tardi ma arriverà comunque in serata. Ragazzi a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!